Il Napoli batte il Como con più fatica del previsto ma lo batte e vola sempre più primo in classifica. Conte secondo me sta portando una cosa fondamentale più di qualsiasi altra che non è il gioco, che sono sì e vero i risultati per carità, ma che è l'entusiasmo. Oggi ho rivisto il Napoli in campo e il Napoli sugli spalti, i tifosi entusiasti, che era una cosa che è mancata completamente nell'ultimo anno. Però prima di parlarne iscrivetevi, like e commento qui sotto che è fondamentale. Detto questo, partita che si era messa subito bene, 25 secondi e McTominay fa il gol che sembrava aver aperto le danze. Così non sarà, il Napoli scoprirà che non sarà una partita così tanto semplice, secondo me più che per demeriti propri, per meriti del Como che ha fatto un partitone. Perché quando va detto, va detto, il Como oggi ha fatto un'ottima partita, ha giocato bene. Nico Pass, secondo me, ha fatto una gara sontuosa. Poi ovvio, vai a giocare contro il Napoli al Maradona, è complicata, non ce l'hai fatta, strappare neanche un punto. Però sicuramente il Como oggi, per me, per quanto riguarda proprio la fase della prestazione, della performance, deve ritenersi più che soddisfatto, perché una partita così, quando sei il Como, e comunque hai faticato in questo avvio di stagione, nonostante la super vittoria a Bergamo, e vai a giocare così anche a Napoli, secondo me stai costruendo un carattere non da poco. E se il Como, visto a metà agosto, a inizio campionato, contro la Juve, era parso un Como impresentabile, e questo, come qua, è già tutta altra squadra. Però, tornando al Napoli, beh, McTominay che fa il gol, ma al di là del gol, è un giocatore, secondo me, spaziale, spaziale. Uno, si vede che ha un'altra preparazione fisica, si vede che è un giocatore abituato ad altri ritmi, perché va al doppio di tutti gli altri in campo, Napoli e Como, ma anche degli altri visti nelle ultime settimane. In Juventus-Napoli, McTominay andava al doppio anche dei giocatori della Juve, quindi non è una questione di Napoli e Como, è una questione che un giocatore che viene dalla Premier ha un altro passo, ha un'altra cilindrata, c'è poco da fare. Ma, vi ripeto, tante volte è successo questo, tanti esempi. Ci sono anche, per quanto riguarda giocatori di altre squadre, arrivati in Serie A dalla Premier negli ultimi anni, su tutti. Abram, primo anno, spaventoso, in positivo, secondo spaventoso, in negativo. La differenza, allenatore uguale, squadra bene o male uguale, anzi, secondo anno ha avuto anche Di Bala dietro, in teoria doveva essere più facile per lui, neanche per niente. Perché? Beh, secondo me in parte, quantomeno si spiega proprio con il fatto che chi arriva dalla Premier è fisicamente... va al doppio. Io faccio sempre l'esempio del diciottenne che gioca con i pulcini. Vai al doppio fisicamente, c'è poco da fare, sei straripant. Ecco, chi arriva dalla Premier ed è abituato ad un certo tipo di calcio, comunque non so se ve l'ho detto gli altri giocatori, Abram, Smalling, Tomori, tutti che hanno fatto subito benissimo e che poi dopo sono un po' calati. E secondo me si spiega con quello. In questo momento McTominay quindi è nella fase, in qualche modo, ascendente perché sta andando alla grande. Sicuramente il prossimo anno, se dovesse rimanere, resta un ottimo giocatore, ma si sgonfierebbe questa cosa perché facciamo in Italia preparazioni fisiche e atletiche diverse rispetto a quelle che si fanno in Premier. Poi avranno tanti difetti rispetto a noi, sicuramente curano meno la tattica, ma sul piano atletico ci battono 10-0. Comunque, chiusa parentesi McTominay, che a me piace tantissimo e che è soltanto una squadra di folli come lo United poteva scaricare in quel modo a fine agosto, il Napoli ha fatto un colpaccio assoluto, assoluto. Sarei curioso, a dire il vero, di vedere un po' di più Gilmour in campo, che secondo me è un giocatore che può fare bene. Vediamo, mi aspettavo un inserimento più rapido, sono sincero, di Gilmour in campo. E nei 11 del Napoli, proprio come McTominay che è tempo zero e si è imposto, non inserito, imposto come un titolare perché è impossibile lasciarlo in panchina, Gilmour ci sta mettendo un po' di più. Comunque, anche il mercato, secondo me, a parte che oggi alla fine la vittoria è del mercato, complessivamente. Una vittoria del mercato del Napoli, ma al di là della vittoria del mercato del Napoli, comunque la squadra c'è. La squadra c'è poco da fare, il Napoli comunque ha fatto 7 partite, adesso è arrivato alla seconda pausa, quindi al secondo stop. Ha fatto 7 partite, più quelle di Coppa, ecco, contro il Modena così e così, contro il Palermo molto molto meglio. Però in campionato, 7 partite e soltanto un passo falso, fra l'altro alla prima, che sembrava sinceramente il preludio di una stagione non troppo differente da quella appena passata. Poi il Napoli ha, in qualche modo, addrizzato il tiro e sta andando alla grande, sta andando alla grande, perché comunque, vi ripeto, un passo falso. Gli altri punti persi sono stati a Torino contro la Juventus, che secondo me è più un passo falso di Motta che di Conte, perché la Juventus in casa, in un momento in cui stava faticando, doveva fare quel qualcosa in più, che invece il Napoli non era tenuto a fare. Ha strappato un punto, diciamo, buono, non eccezionale, ma sicuramente un buon punto. L'unico passo falso è stato quello, alla prima di campionato. Per il resto, il Napoli ha fatto molto 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 bene, sta facendo molto molto bene. Oggi, sì, è vero, ha faticato un pochettino, magari anche un po' troppo, perché in una fase centrale, anche a fine primo tempo, comunque il Como ha giocato bene, il palo di Nico Passa ancora trema. Quindi, è vero, non una partita eccezionale, ma una partita comunque vinta, che era una cosa fondamentale, fondamentale. Contro un Como, vi ripeto, in crescita, che ha fatto una buona partita, e con un arbitraggio oggettivamente discutibile, perché secondo me il rigore, il primo rigore, quello assegnato, è netto. Ma quanto? Dieci minuti dopo? Ce n'è anche un altro Sucbara che l'arbitro non fischia. Per quale motivo? Secondo me, perché non ha avuto la personalità per fischiarlo. Perché magari avendo ancora qualche dubbio e rimanendo condizionato dalla sua stessa decisione di fischiare il rigore qualche minuto prima, quell'altro non l'ha fischiato, anche se, chi era, Sergio Roberto? Si appoggia con entrambe le mani sulla schiena di Kvala, non è un contrasto, non è uno spalla-spalla, è una spinta. È letteralmente una spinta. Poi si può discutere se si tratta di rigore moderno, rigore non moderno, ma per me in questo momento questi rigori qua si fischiano. Dieci anni fa ci avrebbero riso dietro a dire una cosa così. Però in questo momento per me questo è un calcio di rigore. Un calcio di rigore che banalmente viene fischiato in tante partite che secondo me ci sta. Il Napoli comunque, vi ripeto, la rosa ce l'ha, l'ha dimostrato anche oggi, a cui si sono stati azzeccati. McTominay, Lukaku che vabbè segna su rigore, ma comunque è un giocatore fondamentale secondo me per il gioco del Napoli. Neres che a me fa impazzire, impazzire, che anche oggi lascia il segno come spesso accade. O gollo assist in qualche modo, il cartellino Neres lo timbra quasi sempre. E vi ripeto, Conte sta portando entusiasmo. È un Napoli che gioca, che si diverte, che diverte. È un Napoli diverso, è un Napoli diverso rispetto all'anno scorso. È un Napoli che allunga, è un Napoli che al momento va più 4 sulla Juve seconda, con una partita in più. Ma vediamo, vediamo la Juventus come si comporta dopo la grande vittoria all'Ipsia. Vediamo come si comporta in campionato, vediamo. Perché comunque il Napoli senza le coppe ha anche quel vantaggio. Ha un top player in panchina che senza le coppe ha sempre fatto benissimo. Al Chelsea il primo anno, la Juventus il primo anno. Occhio, occhio, non dico altro. E con questo passo e chiudo, mi raccomando, iscrivetevi, like e commento qui sotto, che è fondamentale. Ciao!